Oggi siamo in questo luogo per ricordarci di un dato importante. Coloro che abitano questo cimitero, i corpi mortali che abitano questo luogo. Come uomini, di pensare alle tante, alle mille, piccole morti quotidiane. Una giornata interamente dedicata alla commemorazione dei defunti. Un momento di omaggio e raccoglimento per ricordare i propri cari scomparsi. Sono state promosse dall'amministrazione comunale di Barletta una serie di iniziative volte a celebrare e tenere viva la memoria dei defunti. Alle 10.30 la presenza di numerosi fedeli delle istituzioni è stata così celebrata una funzione religiosa presso la cappella comunale del cimitero. La ricorrenza della commemorazione dei defunti riporta alla luce una pratica che la Chiesa prevede per suffragare le anime dei nostri cari defunti, le indulgenze. Fino all'8 novembre i fedeli potranno così lucrare, una volta al giorno, una indulgenza plenaria applicabile alle anime del purgatorio, visitando il cimitero e pregando per i defunti. Onori ai caduti! Dopo la celebrazione della Santa Messa, la presenza dell'ambasciatore di Slovenia Bogdan Benko ed il sindaco di Barletta Pasquale Cascella sono stati poi tributati gli onori ai caduti nel Sacrario dei Soldati Italiani e all'Ossario Monumentale, dove sono custodite le spoglie dei soldati e dei partigiani slavi, vittime della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. Volevo consegnare davanti a loro questo messaggio di condivisione di un valore, di condivisione di un bene, di un bene che appartiene alla memoria dei nostri paesi. Quindi, vedete un bene che appartiene alla famiglia del pubblico.